C'è un doppio binario da seguire, sempre, a prescindere dalla fase, valutare le questioni sanitarie ed i contagi del coronavirus e le modalità con le quali gli italiani dovranno tornare al lavoro. Prende sempre più forma la cosiddetta fase 2, da non confondere con la fine dell'emergenza, con una serie di indicazioni, prescrizioni ed obblighi con cui il governo porterà l'Italia fuori dal lockdown. Ci sarà una strada omogenea, come ha precisato il premier Giuseppe Conte, con una graduale uscita dal lockdown che dovrebbe partire dal 4 maggio e che il premier intende comunicare al paese nelle prossime ore. Mascherina obbligatoria, distanziamento sociale, le prime indicazioni confermate, potenziamento dei servizi di prevenzione, linee guida valide per tutti o meglio per tutte le regioni. E così da oggi la regione Campania ha avviato la consegna di 4 milioni di mascherine direttamente al domicilio dei cittadini, due per famiglia distribuite esclusivamente dai postini. Nelle prossime ore le mascherine, non ad uso sanitario ma protettive e lavabili, non use e getta quindi ma riutilizzabili per due o tre volte, raggiungeranno gradualmente il domicilio anche di tutti i cittadini della provincia di Salerno. E mentre scatta l'ok per le passeggiate, ma non in gruppo, sia la ripartenza dei cantieri e delle attività produttive, ma anche la riapertura delle spiagge, l'alleggerimento della stretta sul delivery delle pizzerie e dei piatti dei ristoranti che dal 27 aprile potranno rimettersi in moto, la riapertura di bar e ristoranti appare invece ancora lontana. La Campania pensa alla fine del lockdown con due punti fermi, monitoraggio stretto dell'evoluzione dei contagi e limitazione degli assembramenti. E quanto ha ribadito infatti ancora una volta anche ieri sera il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel confronto televisivo della trasmissione RAI porta a porta con il governatore della Lombardia, Tilio Fontana, per discutere proprio di emergenza coronavirus. Nessun attrito con l'omologo della Lega che ha ricordato un gemellaggio da lungo tempo tra Niguarda e Cardarelli. Il rapporto tra Campania e Lombardia è un rapporto di grande correttezza, ha detto il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che però più volte ha richiamato tutti alla prudenza. Ci dobbiamo avviare alla vita ordinaria ma usando la ragione e non dicendo banalità. Vediamo di capirci bene Vesp perché io divento molto insofferente con il passare degli anni alle banalizzazioni. Oggi la situazione com'è, come funziona? Si fanno dei controlli e si bloccano cittadini che vanno in giro a zonzo senza avere nessun motivo. Ma anche oggi la mobilità per le merci è consentita. Le filiene agroalimentari funzionano perfettamente. I TIR che portano prodotti alimentari da Napoli a Milano, da Milano a Napoli funzionano tranquillamente. Quelli che vanno in giro per motivi di salute o per motivi seri, basta che facciano l'autocertificazione e possono muoversi. Quello che non è consentito è avere un processo di mobilità che diffonde il contagio per nessun motivo serio. Dunque la mia idea è che questo elemento di rigore dobbiamo tenerlo in piedi ancora per un po' di tempo. Questo non riguarda le filiere produttive. La cosa sarebbe impossibile perché non puoi chiudere nell'ambito di un settore industriale una fabbrica da una parte e l'altra fabbrica alla sciaperta. È evidente che il settore deve funzionare insieme. Quindi gli orientamenti devono essere nazionali, anche perché sui trasporti, sui servizi è chiaro che hai bisogno di orientamenti nazionali, ma hai bisogno anche di esercitare la ragione per capire quali sono le realtà specifiche. Per quello che riguarda la Campania noi abbiamo assunto decisioni anche più rigorose. Sa perché? Perché la Campania è la regione che ha la maggiore densità abitativa d'Italia e nella fascia costiera alla maggiore densità abitativa d'Europa. Siamo a livello di Singapore, 1500 abitanti per chilometro quadrato e questa è l'unica regione nella quale non si può sbagliare perché se si sbaglia viene un'ecatombe. È chiaro? Allora noi dobbiamo avviarci verso la vita ordinaria, ma usando la ragione e non dicendo banalità. Nessuno vuole mettere le barriere, i New Jersey, i cavalli di Frisia da nessuna parte. Si dice semplicemente che occorre una posizione di prudenza. Cominciamo a scongelare la situazione, ma manteniamo anche dei controlli. Chi viene qui? Ma questo vale anche per chi da Napoli va a Milano, non solo per chi da Milano va a Napoli e va in giro senza nessun motivo serio, deve essere bloccato, deve essere sanzionato. Questo è tutto, almeno per alcune settimane, perché se la situazione è questa, che in alcune regioni non c'è quasi più il contagio, ma in altre regioni abbiamo ogni giorno mille nuovi contagi, beh credo che un elemento di prudenza debba essere mantenuto. Questo è tutto. Un po' di buonsenso e un po' di ragionevolezza, facendo andare avanti l'economia, le relazioni sociali, ma sapendo che dietro l'angolo, se sbagliamo, ci può essere la situazione che ha vissuto il primo paziente che abbiamo intervistato, e cioè vedere la morte con gli occhi in maniera tale che ci capiamo. Grazie. 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 Grazie.